Buongiorno a tutti intanto. Oggi iniziamo con la danza, una danza di Nurit Melamed del 2019 con Le Suasso, come gli uccelli. Il canto è una collaborazione fra due musicisti israeliani, Isha Eribo e Amir Haddad. Haddad è stato il primo israeliano a presentare al Song Contest e ha avuto molto successo. Da allora anche questo brano è stato fatto un remake e riproposto e come sentirete in lingua francese dice come gli uccelli c'erano misteri così noi potremmo essere soddisfatti ed essere meglio di vivere. Prima parte, la danza è composta da tre parti. La prima parte siamo fronte al centro direzione anti-oraria. Apro il destro, molleggiando, sollevandomi leggermente sul sinistro, apro il crocio dietro, apro il crocio avanti. In realtà è un mime ma con un piccolo saltello e si ripete. Apro il destro, sinistro incrocio dietro, apro il crocio avanti. Proseguo la prima figura con peso sul destro a destra, peso sul sinistro e con caccia a destra incrocio davanti a sinistro. Ripeto la stessa cosa dalla parte opposta. peso sinistro, peso destro, caccia a sinistro. Questa prima parte si ripete. Apro il crocio dietro, apro il crocio avanti, peso peso caccia caccia, peso peso e si ripete. Apro dietro, apro avanti, peso peso caccia caccia, peso peso caccia caccia. Seconda parte. Siamo a fronte e verso il centro. Peso destro, peso sinistro, due passi, destro, sinistro, saltello sul sinistro sollevando il destro e appoggio subito destro, sinistro. Spalla a destra al centro per peso destro, peso sinistro, caccia caccia destro. Giro a sinistra per ritrovarmi fronte al centro. Proseguo nella direzione antioraria a destra con il sinistro che incrocia dietro e avanti e giro a destra con due passi destro e sinistro. Si ripete. Siamo ancora verso e fronte al centro. Peso destro, peso sinistro, destro sinistro, salto appoggio, appoggio. Peso destro, peso sinistro, caccia caccia. Giro con due, proseguo nella direzione antoraria, sinistro dietro e avanti e giro a destra con due passi. terza e ultima parte. Abbiamo finito fronte al centro dopo il giro a destra. Proseguo con il fronte e la direzione antioraria verso destra con quattro passi partendo di destro. Destro, sinistro, destro, sinistro, calcio con il destro, calcio appoggio appoggio. E poi faremo altri quattro passi un pochino veloci su due tempi con destro, sinistro, destro, sinistro. Questa figura si ripete, questa parte si ripete. Destro, sinistro, destro, sinistro, calcio appoggio appoggio, destro, sinistro, destro, sinistro. Per finire, la figura numero 3, prosegueremo, andremo verso il centro, abbiamo già la spalla sinistra nella direzione, verso il centro. Eseguiremo un passo di main con il destro che è libero, che incrocia dietro, apro, incrocio avanti, apro. Sul posto faremo un giro a destra utilizzando due passi, destro, sinistro e un cia 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 a destra. Destro, sinistro, cia cia cia. Per ritrovarci con lo stesso fronte, fronte anti-orario, sempre spalla sinistra al centro e questa volta esco con un main ma con il sinistro che è un libero che incrocia davanti. Incrocio, apro, incrocio dietro, apro. Questa volta, proseguendo nella direzione anti-orario a destra, faremo un giro a sinistra con sinistro, destro, cia 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 sinistro. Ripeto tutta la figura numero 3. Quattro passi, calcio e ta-ti-ta-ta. Quattro passi, calcio e ta-ti-ta-ta. Ma-a-a-i, giro, cia cia cia. Ma-a-a-i, giro, cia 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 cia. Dis-moi se tu veux faire un tour à deux, danse sur la mer,enchamber les rivières, les rayons du soleil, entre les herbes sommeil, n'attend pas que demain, la vie passe entre nos mains, comme les oiseaux en l'air, chante des mystères. Grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti.